La città saluta Aurum di Fabio Viale dopo mesi di grandi successi per un allestimento che ha coinvolto tutto il centro storico. Sono riuscito a vedere le opere ancora in un altro modo rispetto a quando le avevo immaginato. Sant'Ignazio ad esempio è uno degli spazi che davvero mi ha colpito e oggi che sono ritornato dopo mesi ho trovato uno spazio non solo pieno di energia ma con una luce e una forza che queste sculture riuscivano a dare che non era più la loro ma era di tutte le persone che fino ad oggi sono state dentro questa chiesa e si sono emozionate come mi sono emozionato io. Le statue e le sculture sono come delle batterie che devono ricaricarsi e lo spettatore è in grado di dargli questa energia. La mostra diffusa aperta inizialmente da giugno a settembre e poi prorogata fino ad ogni santi si è chiusa con la presentazione del catalogo Aurum. La mostra di Fabio è una mostra che mi ha emozionato molto e anche perché poi ha avuto un duplice ruolo io non ho fatto soltanto il catalogo come molte volte mi accade ma in questo caso anche collaborato con Fabio alla costruzione di tutto il progetto espositivo e quindi doppiamente coinvolto. E poi per il lavoro di Fabio perché è un lavoro straordinario, è un lavoro che sorprende ogni volta chi lo osserva e su cui ogni volta troviamo qualcosa di nuovo. La mostra per mesi ad Arezzo ha proposto un percorso provocatorio e suggestivo attraverso oltre 40 sculture che hanno coinvolto musei e spazi aperti da Piazza San Domenico al Sagrato della Chiesa di San Francesco fino a quello del Duomo. L'esposizione è stata visitata da retini e turisti con quasi 20.000 presenze. Tutte le volte che l'arte vera si presenta nella nostra città questi avvenimenti succedono e quindi il selfie che poi fa il giro del mondo perché poi una volta viene pubblicato per noi è un veicolo incredibile di pubblicità fuori dalle nostre mura e essere ricordati per una bella opera d'arte che si trova in una delle nostre piazze o all'interno di uno dei nostri palazzi più prestigiosi, mi riferisco alla Fortezza, alla Sala di Sant'Ignazio, a questa stessa Galleria d'Arte Contemporanea, è una grande soddisfazione.